vuoi la pappa? amore? di? di di di? dimmi? dimmi? cosa? dimmi? eh? eh? sì ma sì mamma mia abbiamo instaurato io è molto buona questa pappa vero? dimmi è buona? la nutria beatrice che adesso verrà portata subito in una bella sistemazione ma i tuoi versi come sono? dimmi? dimmi? dillo? è buona? è buona? sì è buona aspetta aspetta che ti do un'altra foglietta adesso vediamo se questa foglia può essere una buona idea la vuoi? eh? com'è? eh? eh? è qua eccola brava è una bella nutria questa nutria non sei manco spaventata non sei scomposta proprio ma io sto mangiando un sacco di insalata con queste belle mani stupendo che belle mani te ho ecco il mostro come si può dire mostro è un sacco di insalata 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 è un sacco di insalata